Ancora un successo, ancora una serata all'insegna del divertimento e della convivialità a Salleo. Nella frazione alle porte di Arezzo è infatti tornata la grande festa di quartiere targata Confcommercio, Salleo da Vitere. Una serata di shopping sotto le stelle, con negozi aperti con sconti e promozioni speciali. Ad animare la serata invece spettacoli musicali che hanno coinvolto il pubblico con le live music ed ancora spettacoli di ballo e di intrattenimento di gruppo. È stata anche l'occasione per gustare le specialità locali grazie agli esercizi della zona, oltre all'area street food lungo la statale 69, chiusa al traffico, per l'occasione un tripudio di colori e sapori con i food truck. Presente anche uno stand di promozione del laboratorio di agricoltura sociale Fior di Carota. Per i più piccoli invece un'area giochi, truccabimbi, palloncini e laboratori creativi di cucina. Non sono poi mancate le esposizioni storiche del Vespa Club Arezzo e delle Harley Davidson, che hanno aggiunto un tocco di fascino vintage per grandi e piccini. Per l'occasione infine ha riaperto le sue porte il pallaio di Salleo, preso di mira in più occasioni dai vandali e adesso tornato a nuova vita grazie ad un gruppo di giovani.